Il campo sportivo Nicola Marcantonio torna nelle mani dell'amministrazione comunale, dice Pagatti. Domenica sera l'inaugurazione del rinnovato impianto sportivo pronto ad accogliere le squadre locali con un piano tariffario a basso costo e servizi di prima qualità. Un duro lavoro guidato dal sindaco Gino Cantò e da membri della giunta e dell'amministrazione che si sono occupati in prima linea del fatto investendo una cifra pari a 100.000 euro. Una lunga storia quella del Marcantonio che negli ultimi anni era passato sotto la gestione del Chieti Calcio Torre Alex ma che ora torna da chi lo ha visto nascere e crescere, soffrire e rifiorire. Un nuovo manto erboso raccoglie piccoli e grandi appassionati di sport e pallone per crescere e sognare con addosso i propri colori. Dopo due anni finalmente siamo riusciti a riprenderci il campo Nicola Marcantonio e ridarlo ai cipagattesi. E' un banto per noi perché era finito al Chieti e le squadre di cipagatti non avevano accesso o perlomeno l'accesso era molto limitato. Grazie all'aiuto del professore avvocato Giorgio Fracastoro che mi ha aiutato per tutte le pratiche abbiamo finalmente avuto il campo di cipagatti. Quali sono i nuovi progetti per i ragazzi? Intanto lo diamo soltanto alle squadre cipagattesi. Questo è molto importante perché noi abbiamo i pulcini, abbiamo tutte le categorie per cui è molto importante farlo risufruire ai ragazzi di cipagatti. Abbiamo investito tanto su questo campo, il manto erboso, abbiamo rifatto l'illuminazione e adesso come vedete stiamo proseguendo con le tribune. Ci accingiamo a fare quest'opera che è molto importante per il paese. Vogliamo riprendere l'opera che era stata lasciata un po' abbandonata e adesso lo riprendiamo e entro il 31 ottobre è prevista la copertura dello spogliatoio. Questa è una giornata storica perché vedere di nuovo i bambini di cipagatti e di tutte le frazioni del nostro paese tornare a giocare liberi sul campo è davvero un momento stupendo per noi ed è un obiettivo raggiunto che ce l'avamo prefissati sin dall'inizio. Per venire incontro alle esigenze delle squadre locali poi abbiamo ridotto anche le tariffe del 30%, un altro punto che era sul nostro programma elettorale e abbiamo voluto rispettarlo sin dall'immediato quindi si torna a giocare con la gestione del comune di cipagatti e l'utilizzo delle persone del reddito di cittadinanza che ci daranno una mano per aprire, chiudere e pulire il campo.